Transpotek è la fiera dedicata a chi ha fatto molta strada e a chi ne deve fare ancora tanta, per citare uno dei concetti base dell'edizione 2017. La fiera è in corso a Verona per quattro giorni di esposizione, di formazione, di incontri che si rivolgono principalmente al settore dei trasporti e della logistica. L'idea è proprio quella di andare lontano, non solo di guardare ad un futuro migliore, di arrivarci e di farlo sulle ruote. Nel quartiere di Verona Fiere dal 22 al 25 febbraio si può avere una visione completa delle novità del settore, mezzi pesanti e commerciali, allestimenti, servizi per l'autotrasporto, componenti e macchinari usati. L'Aftermarket Village rappresenta sicuramente una delle novità assolute di questa edizione della fiera. Si tratta di una zona interamente rivolta alla manutenzione tecnica dei mezzi, che evidenzia i modelli e la qualità di accessori e di ricambi. L'intenzione primaria degli organizzatori non è solo quella di informare e mettere in luce le novità, è rivolta a qualcosa di più preciso. Si desidera fare networking, fare sistema, per raggiungere nuovi traguardi di collaborazione, condividendo conoscenza, idee e formazione. Con questi obiettivi l'edizione 2017 di Transportec centra sicuramente gli interessi degli operatori professionali, che trovano in un unico momento e in un unico spazio tre saloni specifici dedicati al comparto. In concomitanza con Transportec si possono visitare infatti anche Samoter, il Salone Internazionale delle Macchine Movimento Terra per Cantieri ed Edilizia, ed Asfaltica, salone dedicato alle tecnologie e alle soluzioni per la pavimentazione stradale, la sicurezza e le infrastrutture. Anche l'internazionalizzazione contribuisce a dare maggiore valore a questa fiera, per la quale sono accorsi i buyer da 20 paesi.